Il Consiglio Comunale, qual è lo stato di salute della sua maggioranza, anche alla luce di quanto è accaduto ieri e nella seduta precedente? Sana e robusta. La maggioranza si farà trovare pronta all'appuntamento più importante che è quello che avremo tra il 28, il 29 e il 30 novembre. Io sono assolutamente fiducioso che scriveremo un'altra grande pagina per la nostra città, nel senso che faremo le due manovre importanti, uno è il nuovo piano di riequilibrio e l'altro è la messa in sicurezza dei conti, come ci viene chiesto la sezione regionale di controllo. Ci stiamo preparando bene per questo appuntamento, stiamo registrando alcune cose nella maggioranza. Io l'avevo detto, c'è stato il primo tempo che l'ha giunta, adesso c'era il secondo tempo, quello di costruire una maggioranza in Consiglio ancora più forte. Lo sto facendo personalmente con una grande fiducia che i nostri consiglieri vogliono partecipare a questa fase di consolidamento della maggioranza e dell'azione politica e amministrativa nella nostra città. Quindi sono assolutamente tranquillo e sereno.